Il mio uomo! Dei candidati che eseguiranno facilmente i miei ordini. Di grossa corporatura. E di limitato... intelletto. Ne appunto! E mi ha fatto male! Che cosa succede? Che ci sta succedendo? Non lo so! Ma mi sento alla grande! Adesso ci divertiamo! Che strano! Sento le formiche nei pantaloni! Formiche giganti! Va bene, vivo per Rocksteady. So che siete lassù da qualche parte. Lo sapevo! Omnus? Scansione i soggetti. Scansione. È un miracolo. Dentro ogni essere umano c'è un gene dormiente che ci lega ai nostri antenati animali. È come se quel liquido viola li avesse... riportati al loro posto nel regno animale. Ehi, Rock! Sei un rinoceronte! E tu sei... Non so che cosa sei! Va bene, va bene. Andiamo, vediamo, vediamo. Sono... Sono un maialino. Sei un facocero. Ehi, Psyro! Hai mai visto un rinoceronte? Che male! Mi piace! Anche a me! Anche a me. Prepara l'intero contenitore. Più ne creeremo, più terremo al sicuro il portale. Il mio uomo! È un uomo! Ehi, dà un'occhiata al corno! Fai, bello! Eh, amico, guarda la mia fuda! Guarda come si vuole! Che forza ne ho una anch'io, eh! Ehi, Rock! Chi è quella? O'Neill. Prendete il contenitore. Guarda come si vuole!